Melodie e ritmi della tradizione africana mescolati alle sonorità della musica nera d'occidente Dall'antica città di Timbuktu Baba Sissoko è un autentico griot cantore della memoria e della sapienza orale che fonde la musica etnica col jazz e col blues con risultati davvero originali Il suo concerto solo si terrà eccezionalmente a Sala Icos nel quartiere di San Giovanni a Teduccio sabato 28 aprile è sempre sabato 28 al teatro area nord di Piscinola uno spettacolo fuori programma col sostegno del Comic Con Il papà di Dio tratto dal romanzo a fumetti di Michael e Mirko comicità feroce e lirismo stralunato sono i due cardini di questo lavoro del teatro Rebis che tocca i temi archetipi dell'esperienza umana Un fatto di cronaca una ragazza che si uccide e i giornali che parlano di suicidio mite l'espressione colpì l'immaginazione di Dostoevsky che ne trasse un amaro racconto a cui è ispirato lo spettacolo La Mite messo in scena da teatro presente sabato 28 al Nest di San Giovanni a Teduccio con la regia di Cesar Bri Sala Icos, il Nest e il Teatro Area Nord possono essere raggiunti col Polybus la navetta gratuita del Comune di Napoli disponibile su prenotazione